buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo dell'argomento del giorno elenchi aggiuntivi prima fascia ecco come si compila la domanda ricordiamo ai nostri telespettatori che la domanda di compilazione per gli elenchi aggiuntivi prima fascia gps potrà essere presentata a partire dal 12 aprile al 27 di aprile questa è il diciamo la forchetta entro la quale si può presentare la domanda tenendo conto che chiuderà il sistema alle ore 14 del 27 aprile non alle 24 come accade spesso dunque tenete conto e mettete in agenda che alle 14 del 27 aprile non si potrà più presentare domanda per l'inserimento degli elenchi aggiuntivi prima fascia prima domanda i docenti che conseguiranno entro giugno 2023 il titolo di specializzazione sul sostegno come dovranno compilare l'inserimento della gradatoria ad ss della gps prima fascia entrando su istanze online del sito del ministero dell'istruzione del merito con le credenziali dello speed o della cie c'è la carta di identità elettronica si va alla compilazione della domanda denominata elenchi aggiuntivi gradatori e provinciali di supplenze personale docente e personale educativo una volta inserite la provincia e controllata la provincia in cui si è già inseriti in gps si va nella sezione modello di presentazione della domanda e si va all'azione disponibile della scelta gradatoria di interesse fascia e titoli di accesso in cui è possibile accedere e aggiungere gradatoria facendo clic su aggiungi gradatoria si sceglie da menu a tendina la gradatoria tab 7 cioè gradatorie provinciali di istituto per le supplenze su posti sostegno prima fascia poi si inserisce la tipologia di posto tra cui è possibile scegliere ad ss tra le altre perché c'è ad a per l'infanzia di e per la primaria ad mm per la scuola secondaria di primo grado e ad ss per la scuola secondaria di secondo grado dunque si sceglie ad ss posto di sostegno prima fascia e poi si inserisce la tipologia appunto del posto alla fine di seguito una volta scelta il posto ad ss sarà importante inserire il titolo di specializzazione acquisito o l'inserimento con riserva del titolo che sarà poi inserito eh sciogliendo la riserva entro il 4 di luglio 2023 seconda domanda potrà inserirsi negli elenchi aggiuntivi della prima fascia gps un docente che ha conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento ma non risulta inserito in nessuna gps nemmeno in seconda fascia la risposta è affermativa un docente che non è inserito in gps ma ha acquisito il titolo di specializzazione o il titolo di abilitazione per l'accesso all'insegnamento di una classe di concorso può inserirsi a suo piacimento in una provincia qualsiasi d'italia in fase di compilazione della domanda dovrà scegliere la provincia prima di avviare la compilazione delle altre sezioni del modello telematico terza e ultima domanda il docente già inserito in gps ma che chiede l'inserimento in prima fascia gps può inserire i titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso conseguiti entro il 30 di maggio 2022 e non inseriti in precedenza durante l'aggiornamento delle gps anche in questo caso la risposta è affermativa nella compilazione la domanda alla sezione titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso sezione b procedendo con il tasto azioni disponibili è possibile inserire un titolo conseguito entro il 30 maggio 2022 data di scadenza della presentazione la domanda per le gps per il biegno 2022 2023 2023 2024 maggio ma non già dichiarato precedentemente speriamo che le risposte date siano di gradimento e siano soprattutto utili ai nostri telespettatori vi invitiamo a seguirci perché nei prossimi giorni andranno in onda dei video tutorial per la compilazione della domanda degli elenchi aggiuntivi di prima fascia arrivederci a tutti